Grazie a tutti. 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 in faccia e dicono sì ma questo sta accadendo perché dall'altro vedono che anche alle spalle sono degli austriaci e del lusignan è già arrivato ha già chiuso la strada sono imbottigliati quindi rivolsi per le francesi ma attenzione non furono tutte rosa fiori attorno al mezzogiorno la vittoria sembra essere austriaca che cos'è quindi che fa cambiare le soldi della storia la battaglia quindi anche della storia è il fatto che i francesi o meglio alcuni dei francesi e in particolare giuberti e le greche di loro iniziativa parte la malattia napoleone di ordine di napoleone sicuramente abbiamo il diverso fra giuberti e vertieri proprio azzurale in cui si mandano ricordialmente quel paese giuberti ricupera che poche le parti che ancora combattevano e qui succede come dire un cambio totale di scena la palleria arriva i nostri decimosi aspettano sono stati provate e di fronte a questo maschio i cavaliere i primi fatti vengono uccisi travolte dai cavaliere in un pettine che prende travolge quello che trova il resto panicato scappa e scappa sia verso nord e scappa sia verso il canale del tuo roverezzo anche qua colpo di fratturo in questa fase un colpo di artiglieria francese colpisce un cassetto di artiglieria di munizione austriaca della zona di canale che esplode ma immaginate cosa poteva essere all'epoca sentire una taglia di esplosione una batteria già moralmente instabile che vede la batteria e quindi sta succedendo di fronte a questo ulteriormente si spagna una sconfitta di circa venti minuti sembra una grandissima vittoria perché adesso tutti questi studi ex non sono altri che dei fatti che corrono verso l'orto e in questa fase Massena che tanto pederizza il totalmente immobile che cosa fa? scende dalle colline e intercetta i fuggitivi ne fa circa 2000 solo in questa fase di fuggitivi intanto l'usignano che poteva fare anche lui qualcosa ma non è perfetto anche lui perché è affinzionato il suo obiettivo era arrivare su queste colline se avesse avanzato prima chissà vede le costanti della storia no? l'ultimo atto l'ultimo atto era proprio l'amiettamento della collina lusignano che era già arrivata e posizionata sulle alture Napoleone è il concetto raccontro delle truppe prese dal centro e un'altra una ulteriore collina dell'inforzo che arrivava da Africa rossa praticamente da forza accerchiate diventano accerchiati e infatti di questa corona forte di circa 4.500 uomini solo 200 si stanno lavorando tutti gli altri saranno bisognieri feriti o morti eccoci dunque alle perdite dicevo prima rigoli rigoli in altre vittorie ma in altre vittorie in termini proprio di, come dire, umani, di perdi umani riguarda la battaglia il più voluto, il tasso più alto di perdite addirittura nelle mani e montane ostriache se arrivano a perdite pari all'85% nel caso della rossignano del 98% sono state folle, folle per lo più erano più generi conseguenze della battaglia in parte di da anticipate e ribadisco prima conseguenza Napoleone ha nienta l'armato da campo ostriache dopo Ripoli fondamentalmente in Italia non hanno più un'armata hanno un insieme di battaglioni nebradizzati seconda conseguenza cade Mantua Mantua che non ha più la possibilità di ricevere aiuti si arredde venendo sempre fame e se renderà il 2 febbraio libera ora da Mantua e senza più avere un'armata nemica Napoleone può marciare a Marcia Vieta una marcia che se che sarà triunfale inizierà a prova a fine febbraio e inizio di marzo si concluderà una cinquantina di chilometri da sud di Vienna quando il Kaiser manderà un emissario a chiedere la pace Napoleone in questo modo diventa in generale della pace perché è colui che è riuscito ad obbligare il Kaiser ha adesso un tale a fermare una pace ed erano cinque anni che la Francia era in guerra quindi il pradosso se vogliamo è che Napoleone diventa già la chiedere della pace per i francesi io con questo mi fermerei Francesco se avete domande voi direi se volete approfondire l'argomento fuori c'è la bancarella con il libro nostro sui libri vi invito ad avvolarvi numerosi le nostre armate napoleoniche e vi affido le sapienti mani di Francesco grazie mille 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 grazie mille